Ieri sera ho saputo dalla stampa dell'estradizione, sapere che chi è coinvolto nello stupro e nell'omicidio di mia sorella non è cosa semplice. La ferita si riapre e il dolore è sempre più grande. Ora mi aspetto giustizia, non mi è rimasto nient'altro. Mia sorella merita almeno quella, non la facciamo morire due volte. Con fido nella giustizia che è arrivata fino a questo punto, ringrazio gli inquirenti, ringrazio tutti quelli che si stanno adoperando per scoprire i colpevoli della morte di Anna. Simili tragedie non possono essere dimenticate, i criminali devono pagare. Avvocato, la famiglia di Anna Carlini non si ferma, chiede che le indagini vadano avanti perché i capi d'accusa formulati fino ad oggi non convincono proprio, soprattutto in particolare la signora Isabella Martello. Assolutamente, chiaramente ci troviamo soltanto un primo step. Abbiamo appreso dagli organi di stampa che uno dei due indagati nel Ciorano Nelu è stato estradato. C'è stata una volontà da parte della famiglia, da parte del sottoscritto, di non fermarsi e continueremo su questa strada. Ripeto, questo è soltanto un primo passo. Chiaramente la magistratura inquirenti, a cui rivolgo un personale e professionale ringraziamento, ha compiuto degli accertamenti seri e validi. Però riteniamo, così come dall'inizio Isabella ha invocato a gran voce il fatto che la sorella non fosse suicida, continueremo a persistere nella nostra ipotesi, cioè quella dell'omicidio. Perché noi riteniamo che anche sulla scorta degli elementi acquisiti fin d'ora, chiaramente sempre coperti nel secolo istruttorio, noi riteniamo che vi sono elementi validi anche per poter sostenere un'accusa di omicidio, così come peraltro è stato già inizialmente ipotizzata dall'autorità inquirente. Grazie.